l'incassi degli altri meeting. Credo che il sistema ha funzionato bene e con questi introiti riusciremo a dare una prima risposta rispetto alla situazione debitoria che abbiamo trovato, che purtroppo è ancora in una fase di definizione, soprattutto perché è molto difficile ricostruire la situazione finanziaria, tuttavia puntualmente riferiremo alla cittadinanza quali sono gli incassi e tutto.